Si è fatta attendere ma alla fine è arrivata. Stiamo parlando naturalmente della neve che è scesa copiosa su tutta la granda fin dal pomeriggio di sabato. Oltre 40 sono stati i centimetri registrati in pianura ma in montagna la neve ha raggiunto i 70 centimetri per la gioia degli sciatori e delle aziende che gestiscono gli impianti di risalita. Assieme alla neve come al solito sono arrivati anche i disagi anche se come ha sottolineato l'assessore alla protezione civile Stefano Isaia per ora la situazione è sotto controllo. Merito dei 450 mezzi spartineve e spargisale il cui lavoro è iniziato fin dalla giornata di sabato. Un mezzo spazzaneve di una ditta privata si è ribaltato ieri sera in un fosso a Cuneo in frazione San Benigno mentre stava ripulendo la strada provinciale. Il conducente per fortuna è rimasto illeso. Ferita invece una donna in seguito ad un incidente tra Centallo e Tarantasca. Si sono verificate code sulla Torino-Savona per esempio agli svincoli di Ceva, Marene e Mondovì e rallentamenti. Problemi anche per i pendolari visto che sono state soppresse numerose corse sulla Fossano Cuneo, sulla Cuneo Limone e sulle linee verso la Liguria. Treni fermi anche sulle Ceva Ormea, Cuneo Saluzzo e Mondovì Cuneo. Aperti invece i Valichi anche se il colle della Maddalena rimarrà chiuso dalle 19 alle 8 del mattino. Scuole chiuse oggi Adronero, Santa Vittoria d'Alba, Pocapaglia, Brossasco, Cortemiglia e Sommariva Perno, aperte nel resto della provincia. Soppresse anche tutte le partite di calcio in programma, tra queste anche l'attesa Cuneo-Propatria di Lega Pro 2 che si sarebbe dovuta disputare domenica pomeriggio allo stadio Fratelli Paschiero. Oggi non nevica più ma si teme molto per l'arrivo del gelo. Nelle prossime ore infatti dovrebbe verificarsi un drastico calo delle temperature che fino al 10 febbraio scenderanno di 7-8 gradi al di sotto della media. Nel frattempo comunque si prevedono altre, seppur deboli, nevicate.